Siamo con Abbatelli, ritornato al campo, ritornato a giocare dopo una brutta lesione, un brutto infortunio, da novembre, al di là della sconfitta, ti chiedo la grande emozione immagino all'ingresso in campo, per pochi minuti però è un punto di partenza. L'emozione è tanta anche perché non giocavo tantissimo tempo, qua abbiamo Damiano che fa un po' un scemo, però l'emozione è tanta perché era molto tempo che non toccavo il pallone nel campo e onestamente sono manco che dire. Ti chiedo cos'è che ti ha fatto più male a stare lontano dal campo vedendo anche la buona stagione dei tuoi compagni? Sicuramente gli allenamenti mi sono mancati tanti durante l'anno perché il calcio a 5 per me è importantissimo, è tutta la mia vita e soprattutto è una formula di sfogo enorme e stare lontano dal campo questi mesi è stata una nuova cura a nessuno, mancava il peggio nemico. Adesso stagione finita, immagino anche un po' di tempo per te per prendere un po' di confidenza col campo, in vista della prossima stagione sarai ancora protagonista con la Lositana? So a carico, sì, sarò con la Lositana e puntiamo al titolo, puntiamo a salire in C1, addirittura mi sbilancio e io farò tutta l'estate la rinforzo muscolare per riprendere al 100%. Ti ringrazio, gentilissimo, in bocca al lupo per tutto, grazie. Grazie.